Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, allora, 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 allora è terminata a Reggio Emilia, la partita tra Sassuolo e Juventus, 1-2 risultato finale allora, che dire, secondo me brutto primo tempo tra l'altro ho finito poi sul risultato di 1-1 brutto primo tempo perché ci sono stati tanti errori di misura non è proprio dal punto di vista qualitativo, tecnico i nostri continuavano a scivolare tra l'altro, sembravano non riuscissero proprio a stare in piedi scelte sbagliate, mi ricordo una ripartenza con Rabiot che poteva decidere chi servire tra Di Balla e Morata la scelta più corretta sarebbe stata quella di Di Balla sul movimento del difensore del Sassuolo invece Rabiot perdendo un attimo l'attimo serve Morata e viene sprecata una grande occasione la Juve che tra l'altro aveva preso un gol da Raspadori e a mio avviso c'è una una gran bella azione del Sassuolo e un errore però di Wojciech Szczesny non si può prendere gol così sul suo palo non può prendere gol così sul suo palo invece l'ha preso ed è un errore, c'è poco da dire ripeto, bella l'azione, bella l'azione, Berardi che nel primo tempo secondo me è stato il migliore in campo del Sassuolo nel secondo è praticamente sparito a mio avviso io tra l'altro vorrei sottolineare una cosa, tutti parlano di Berardi, tutti parlano di Scamacca, di Raspadori ma secondo me il giocatore più interessante degli italiani che ha il Sassuolo a mio avviso è Frattesi oggi ha fatto una gran bella partita, secondo me è un giocatore veramente veramente interessante l'avevo già visto anche in altre occasioni è un giocatore niente male, secondo me è da seguire attentamente detto ciò ragazzi, la Juve trova gol con Paolo Dybala che fa l'1-1 fa un bel gol, Dybala che nel primo tempo non stava facendo una bella partita ha fatto tanti errori proprio tecnici era spesso volentieri in ritardo non era nel vivo del gioco, poi si è inventato questo gol e quindi la Juve finisce primo tempo 1-1 e lui diciamo salva la sua prestazione Dybala che verrà poi sostituito nel secondo tempo per lasciare spazio a Vlaovic Vlaovic è entrato secondo me con il piglio giusto però alla fine si è visto poco non è stato servito bene se andava a destra il palone veniva dato dall'altro lato e viceversa è stato l'artefice di una buona azione una parte della Juve però poi non sfruttata nel modo giusto chi invece ha sfruttato nel modo giusto l'occasione che gli è stata data incredibile ma vero è stato Moise Kinn che regala i tre punti a noi gobbacci ragazzi sapete che io Moise lo critico perché secondo me è follia dover pagare 38 milioni per il riscatto di questo giocatore ha fatto un gol a mio avviso fortunoso o meglio si è girato bene poi va tirato male a mio avviso e consigli che tanto bravo era stato sul copo di testa da calcio d'angolo pochi istanti prima non si è confermato sulla conclusione di Moise che era sicuramente parabile e anche qui una papera del portiere quindi una per parte una di Cesni e una di consigli e Moise che però comunque sia ha servito ad Alessandro fa 2-1 per la Juventus 2-1 fondamentale perché in questo modo la Juventus mette a 8 punti la Roma quindi è sicuramente importante poi adesso la Juve dovrà per forza vincere contro il Venezia per cercare di allungare ancora di più questa forbice questa distanza che c'è dagli avversari se non sbaglio c'è la Fiorentina che deve ancora recuperare una partita quindi nel caso comunque la Fiorentina arriverebbe vincendo al massimo a 7 punti quindi un punto in più rispetto alla Roma però onestamente così danno che la Fiorentina deve anche giocare col Milan io onestamente la Juve la vedo abbastanza tranquilla di questo castoposto e anzi adesso la Juventus si ritrova a un punto dal Napoli prendendo il calendario non credo che la Juventus riuscirà a passare a Napoli perché poi appunto la Juve adesso avrà il Venezia avrà il Genoa avrà la partita di Coppa Italia la finale e poi avrà le due partite contro Lazio e se non ricordo male Fiorentina proprio la Fiorentina quindi onestamente la vedo dura la vedo dura però comunque sia starli addosso e metterli ancora un po' di ansia mi avviso ci sta alla fine ragazzi cosa cambia? nulla se non che vai a prendere qualche spicciolo in più per il miglior piazzamento in classifica però questo questo è comunque ragazzi per donare la partita di oggi ripeto primo tempo che non mi è piaciuto secondo invece i primi 20 minuti mi sono piaciuti è stato divertente i primi 20 minuti e secondo tempo sono stati divertenti un'occasione dal lato un'occasione dall'altra poi la partita è un po' un po' calata di ritmo è diventata un po' più noiosa a mio avviso Berardi che veramente aveva fatto tanto bene nel primo tempo nel secondo è sparito la Juve a centrocampo ha dimostrato di avere qualità veramente basse proprio basse dal punto di vista tecnico qualitativo tanti tanti errori brutti palloni giocati male distribuiti male ho visto che Max Allegri si è arrabbiato molto in pagina secondo me aveva ragione per certe scelte anche a un certo punto eravamo al limite dell'aria siamo tornati indietro fino addirittura a dare la palla a Chiellini che la giocava per Czesni e questo è un vizio che se vi ricordate chi di voi mi segue magari da più tempo Sack lo sottolineo già da tanto tempo a me queste cose non mi piacciono e penso che non piacciono nemmeno all'allenatore quindi ecco è una Juve che deve fare deve fare di più deve fare meglio senza dubbio sotto questo punto di vista poi ripeto la qualità centrocampo è quella che è ma d'altronde quando ti manca praticamente tutto centrocampo ti manca McKennie, ti manca Chiesa ti manca Locatelli, ti manca Arthur manca qualsiasi persona centrocampo è anche normale che sia così ecco perché io sono uno di quelli che dice ad esempio che Arthur deve andare fuori dalle balle perché è uno che si infortunia ogni tre giorni c'era una e la Juve deve iniziare a prendere giocatori integri punto poi Chiesa è sempre stato un giocatore integro si è rotto un crociato e vabbè può succedere però ad esempio Arthur si è andato a prendere un giocatore che ne ha sempre avuto una e onestamente non ho mai capito il senso di questa operazione ragazzi parliamoci parliamoci chiaramente quindi nonostante le difficoltà nonostante le difficoltà perché comunque avevamo Delict fuori anche lui ha ciaccato aveva dovuto giocare Rugani nonostante le difficoltà secondo me la Juve ha vinto ha vinto giocando una partita non bella una partita sporca ma l'ha vinta a mio avviso la squadra tra l'altro vorrei sottolineare che Moise dopo aver fatto anche gol è venuta anche a dare una mano quindi ci tengo a sottolinearlo perché io sono sempre uno che lo critica però oggi è entrato bene bisogna dirlo e e quindi dietro ragazzi è una vittoria fondamentale per la corsa ai primi quattro posti quindi molto bene così e e adesso già a testa alla prossima alla prossima partita io ragazzi so già che ci sarà qualcuno che criticherà Vlaovic so già che ci sarà qualcuno che criticherà Allegri che non sa usare Vlaovic tutte queste robe qui io penso che oggi non fosse una partita facile e penso che in certe partite quando ti manca un giocatore come Quadrado la Juventus faccia veramente veramente tanta 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 fatica giocatore imprescindibile il Panita per noi io sono molto curioso di vedere la Juve l'anno prossimo con Chiesa con Quadrado e chissà che copriremo magari come esterno si parla del Fideo volesse mai il signore che arrivasse il Fideo anche solo per uno o due anni ma sarebbe bellissimo sono proprio tanto tanto curioso di vedere una squadra giocare in questa maniera una squadra come la Juve con questi giocatori giocare in quella maniera vediamo vediamo e vediamo che succederà dai ragazzi io vi mando un forte abbraccio era importantissimo vincere e ce l'abbiamo fatta e Sassuolo ragazzi è una squadra rognosa senza dubbio è una squadra fastidiosa è una squadra che gioca bene a calcio è una squadra che ti fa giocare male e quindi andare a vincere a Reggio Emilia non è mai comunque facile l'abbiamo fatto ci prendiamo questi tre punti ci prendiamo questo quarto posto andiamo a meno uno da Napoli e vedremo cosa succederà nelle prossime puntate diciamo così dai io vi mando un forte abbraccio invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto diffondete il verbo fate iscrivere amici parenti nonni bisnonni chiunque voi vogliate cerchiamo di crescere sempre di più vi mando veramente un forte abbraccio diffondete il verbo attivate le notifiche e ci vediamo direi domani con il video sulla Champions un abbraccio grande ciao ciao ciao